Andiamo, 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 andiamo. Io vi chiedo perdon, ma non si è quel contro, perché ce n'è la deva meno e se mamma non hai un po'. Il carattere di Ebrea è il babbino di Witton, e con la ricontrista è la giacca dentro il gioco. Sabini sotto il bocca, ha scritto post, mi ci piaccia loro, ma chino, eurro. Sono un malato di risparmio, un po' di trebbia di gruppo, poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo, che non dà il giusto peso a quelli che viviamo, mi ricordo, l'importante è un po' di viverlo, che vivendo vorrei, ma io posso, e con un'altra stata libera, e copriamo un'altra esama all'università.